Si chiamano Darren Campbell e Fiona Elias, purtroppo queste due persone sono rimaste ferite per colpa di una studentessa di soli 13 anni di età che ha coltellato un coetaneo e ben due professori, quindi per un totale di tre persone. Il teatro di questa vicenda è di Dallas, Hammond Ford, nell'Hammond Valley School, dove questa tredicenne ha compiuto il gesto in questione, un gesto veramente brutto, schifoso, tragico, che ovviamente fa capire come porta anche una ragazza o una manciulla che pensi voglia di giovane ità riesca a coltellare, a compiere un reato vero e proprio in tutti i sensi. Non so cosa abbia, diciamo così, scaturito la reazione in questione di questa giovane ragazze, che però non si capisce per quale motivo ha voluto, diciamo così, compiere tutto questo, va bene? Darren e Fiona sono due insegnanti che sono intervenuti per disarmare la ragazza di 13 anni d'età. Sono rimasti ferite, fruttano non in maniera grave per fortuna, ma la polizia ha fatto sapere che sono stati già attupiti mesi dall'ospedale nelle ultime ore di tempo, va bene? Io vi ringrazio in primis per la visione e in secondis per l'ascolto di questo video che oggi vi è rissuto in video di YouTube. Ecco, bisognerebbe capire cosa c'è nella psichia umana.